Iniziamo a giocare finalmente dopo un anno e mezzo di sofferenze, stiamo ritornando il paletto, tutti insieme, tutt'Italia si trova a Rimini per divertirsi. Siamo tutti ex giocatori, anche a buon livello, che col passare degli anni hanno ritrovato la voglia, e la freschezza mentale di rimettersi un po' il gioco. Grazie a tutti.